La statale Valsugana si conferma essere nella triste classifica delle strade più pericolose d'Italia. Teatro troppo spesso di incidenti anche molto gravi come quello accaduto giusto un mese fa a San Giorgio in Bosco e nel quale hanno perso la vita Chiara Maschio e Filippo Miotti. Oggi l'ennesimo incidente a bel vedere. Due motociclisti sono finiti contro un camion. Uno è stato trasportato con l'elisoccorso a Vicenza, l'altro all'ospedale di Bassano. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Intanto rimane stabile. Il ventenne è rimasto ferito ieri lungo la strada cartigliana. Un incidente che ha acceso la polemica sulla pericolosità di quell'arteria e sulla mancata realizzazione della bretella di collegamento con la zona industriale di San Lazzaro. Ma nella mappa delle strade pericolose possiamo sicuramente segnare in rosso anche la schiavonesca Marosticana e i cantieri killer della Pedemontana.